Bella raga bentornati su KinoTV e come ogni giovedì eccoci qui con le novità del negozio settimanale su Fortnite salva il mondo. Bentornati cari telespettatori su KinoTV e oggi scopriremo insieme dopo l'aggiunta dell'evento Fortnite quali o meglio quali cose avranno aggiunto nel negozio settimanale di salva il mondo. Raga non hanno aggiunto nulla se non un semplice eroe ninja molto bella la skin raga fighissima secondo me bellissimo con questo cappuccio rosso questa faccia che non si vede nera fighissima secondo me la skin merita tantissimo è un ninja e fa parte della categoria Sentinella ovvero uguale ad Agile Sentinella un ninja che è già reclutabile dagli eroi base ed è uno dei ninja più forti appunto con quale abilità con lo squarcio del drago ha uno delle squarci del drago più potenti nel senso che aumenta con ali del drago se non sbaglio aumenta la lunghezza del vediamo subito aumenta la lunghezza dello squarcio in più aumenta di un'unità lunghezza del squarcio del drago in più questo squarcio del drago lascia una scia persistente di energia che infligge il 12% di danni del squarcio del drago come ninja secondo me merita non è niente di speciale ve lo dico già ci sono ninja che meritano molto 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 più forti e possiamo comunque trovare ancora acquistabile airheart il costruttore con la torretta e abbiamo i soliti eroi messi qua appunto se non disponiamo di molti eroi nel nostro equipaggiamento luna mastino un difensore i superstiti sono già scioppati quindi se li avete già comprati non potrete comprarli nemmeno voi nel bottino per quanto riguarda il bottino di destra invece raga l'unica cosa sarà comprare i flussi le chiavi inglesi gli stravantaggi leggendari gli stravantaggi non comuni perché non hanno aggiunto niente forse questa falce che può essere carina se non ce l'avete ma secondo me potete anche passare oltre diciamo così si sono risparmiati però li perdoniamo li perdoniamo perché in questi giorni hanno fatto un grosso aggiornamento c'è un evento in corso che è fantastico raga arriveranno dei video riguardo e mi raccomando non mancate sul canale perché ci saranno presto anzi prestissimo delle grossi grossissime novità comunque quest'oggi mi sono trovato un po di lama in più da riscattare guardate che casino hanno combinato winter lama lama plus omaggio saldi stagionali e me ne regala due questo penso a tutti quindi andate anche voi riscattare anche voi riscattare questi benedetti lama in più me li messi con il nome in italiano e in inglese comunque per quelli invernali me li tengo da parte per ora però per questo video apriamo questi due lamia lamia plus vediamo raga niente sono buoni solo per i biglietti ci sta la canzone triste sottofondo eh e niente questi due erano i lama di oggi io per oggi vi saluto ma mi raccomando non mancate perché ci vediamo domani con un nuovissimo video bella a tutti iscriviti al canale iscriviti al canale